Ehi, ma dove siete? Dove siete andate a finire? Non vi vedo! Vedo un po' al giro! Siamo nascosti, non ci troverai mai! Eccoli! Ciao a tutti! Ciao e ciao! Boom Boom Family! Siete cosa facciamo? No! Cosa facciamo? Abbiamo le nuove! Sì! Abbiamo preso tutte queste uova per aprirle insieme a voi! Ma quante ne sono? Sì! Ma poi abbiamo quelle delle principesse! Ma è gigante! Dragon Ball! Wow! Quest'anno questo di Dragon Ball Kinder sarà fantastico! Sì! Fatma! Ma noi siamo gli unicorni! Gli unicorni! E non può mancare Peppa Pig! Sì! E non può mancare Peppa Pig! Sì! Sì! Bravo! Abbiamo fatto una fatica caccia per trovare tutte queste uova! Stanno cadendo! No vabbè! No 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 no! Non fio! Che sacre! Sono molto sacre! Molto indicate! Grande! Grande! Che poco cadono! Perché sono veramente troppi! Sì ragazzi! Cioè! Se muoviamo il tavolo cadono tutti! Sì! Sono giganti! È vero! Questi da quanti grammi sono? Sono da? Questo 320! È gigante proprio! 120 grammi di puro Kinder! Buonissimo! È il mio preferito il Kinder! Eh! Perché è il preferito di tutti il Kinder eh! Un video! Un video! Sì! 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 Bellissima idea! Io ci sto! No! Io no! Io voglio Batman! Dopo sarà il Fatto a decidere per noi! Ma no! Io voglio Dragon Ball Batman! No no! Deciderà la sorte! No! Eh! Anche no! Vai papà! Quale sceglierai? Vediamo! Vediamo! Io sceglierò questo! Wow! È proprio carino! E anche questo! Wow! Allora! Destra o sinistra? Scelgo... Destra! Wow! Topolino! Sì! Che bello! Questa è rimasto a me! È il turno di papà Fabio! Oh! È pronto? Sì! Scegli bene! Potresti scegli... Guarda! Ti do anche un indizio! Potresti scegliere Dragon Ball e Batman! Sì! Eh! Cosa mi vuoi dare il principesse? Sì! Ma secondo te! Io glielo darei! Ma no! Ma quali principesse? O Batman o Dragon Ball! Mi raccomando! Confido in te! Confido in te! Scelgo questo! Scelgo questo! Wow! Sì! Wow! E poi sono i principesse! Sì! È un problema! È un problema! Scegli bene! Eh papà! Annaggia! Allora! Eh! Destra, sinistra! Dai! Destra! Wow! Che fortunato! Wow! Che fortunato! Che fortunato! Che fortunato! Grazie! Ragazzi! No! Questo è proprio fortuna! Eh sì! Fortuna! Fortuna! E adesso è il turno di Kate! Vai! Vabbè! No! Non sbircia lei! Lei è brava! Questo! Eh? E questo! Wow! Kate! Quale scegli? Destro o sinistro? L'unicorno! 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 Speriamo che la sorpresa sia unicornosa! Ora tocca a mamma! Vai! Mammina! Adesso voglio vedere! E lei mi raccomando! Un Kinder! E lei! Io fossi in te! Fossi in te! Sceglierei questo! Sì! Ora scegli questo! Quello di questo! Sceglierei! E poi! A me della sorpresa non mi interessa! Voglio la cioccolata! Dessera o sinistra? Sinistra! No! Vabbè! Ma vai! Vai! Grande! Principette! Adesso è il turno di Ele! Allora io avrei pensato! Dai si buona con Ele! Allora è da dire che non si possono toccare tutte le uova! Eh? Qualcuno lo deve aprire! No! Ho capito! Ho capito! Ma potrei essere io il tentato fortunato! Scusa! Ora non le metto! Non le metto! Ma uffa! Devo mettere nella challenge! E... Questo! Eh beh! Questo sì! Questo sì! Mi raccomando! Speriamo che scegli quell'altro! Allora Ele! Destra o sinistra? Sinistra! Grande! Oh! Sì! No! Dovevo scegliere questo! Così è un po' fatto di veniva! Io sono contenta! Oh! Sei contenta? Lo sbirciare! Lo sbirciare! Ora tocca a Kate! Allora io scelgo questo! Questo! E... Questo! Questo è bellissimo! Sicuro! Kate! Destra o sinistra? Oh! Wow! 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 Adesso tocca a Kate! Eh! La scelta si sta facendo difficile! Eh sì! C'è sempre meno uova! Eh! Allora io prenderei questo! E anche... Dai sì! A te Kate! Vabbè però no! No no! Eh! Non gli vuoi dare questo papà? Questo è... No! Ecco beh! Questa meglio qui! Me lo sta meglio qua! Hai capito! No! Ti deve esclusione lui! No ma questo non gli piacerà mai! Non gli piace più! Prendiamo invece quest'altro che questo è più... E' più colorato! Questo gli piacerà sicuramente di più! No! Questa è una sua tattica! No no! E' che quello... E' una cosa particolare! Allora Kate! Destra o sinistra? Eeeh! Le principette! La tocca a Ele! Eh! Ormai le sono rimaste veramente poche! Considerando che tanto questo non si può toccare! Papà però non puoi giocare di strategia! No! Allora! Allora! Mi aspetta qualcosa all'interno! E questo qual'è? Inizia con la G e finisce con la U! Eh! Allora! Se l'avete indovinato scrivetelo nei commenti! Certo! Ma è questo! No! Allora tu! Allora! Questo lo lasci qui! Ah! Quello è fuori classifica! Ormai l'avevi fuori dalla challenge! Ehm! Ehm! Allora! Io sceglierei questo! Ottimissimi! Destra o sinistra? Questo! Ah! 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 la batterà questo o questa non è la mamma possiamo barattare no non barattiamo non barattiamo e adesso è il turno di papà ne sono rimaste solo due scendi bene eh certo infatti stavo dicendo hanno preso sicuramente allora io direi potrei dire tranquillamente sarà molto difficile allora io credo che sarà qua